Bene amici, ed ecco ora colleghiamoci a questo punto con gli Apocalypse Studio dove ci aspettano Oh, ed ecco qui i nostri fantastici cinque Salve, come va amici? State bene? Sì? Vi vedo tonici? Come sono emozionata! Io la seguo sempre Bob Lei che è un così bravo presentatore, se lo tenga stretto il suo posto di lavoro Perché sa com'è la televisione, oggi sei alle stelle e domani puff! Potresti fare la coda insieme a milioni di disoccupati Comunque tanti belli auguri per la sua carriera La ringrazio signora, ma veniamo a voi Signorina Winter, siete sul sedio di un nuovo film, vero? E come va? Bene, grazie! E lei come sta? Sì, bene, grazie, ma io vorrei sapere qualcosa di più di quest'ultimo film E' sicuro di stare bene? Perché a volte dei piccoli malanni trascurabili Poi si trasformano in qualcosa di fatale, sa? Grazie per l'interessamento Ma noi siamo qui e volevamo sapere solo di quest'ultimo catastrofico ambientato nello spazio Ehi B, stai attento con quella scala, sei a 15 metri Ecco, ma tornetevi una curiosità Sì, eccolo lì Non siete stanchi di interpretare sempre gli stessi ruoli Sempre questo genere di film Ma per nulla, la vita del set è così eccitante Succede sempre qualcosa Dov'è la porta sta pistola? Attento ragazzo, potrebbe essere carica Non gliel'avessi detto Sì, effettivamente Ecco, ma ditemi un po' di quest'ultimo film di cui state sterminando tutto State sterminando le riprese Di che si tratta? Come si intotolerà? E' un film simpaticissimo, sa? Adatto a tutte le famiglie Danica, dove metto? Attento, è materiale infiammabile Cosa? La ringrazio, ma parliamo del film Raccontateci qualche aneddoto delle riprese Si intitolerà Apollo 13 E sa che cosa facciamo ora? No? Le facciamo vedere un pezzettino No, grazie, lo stesso non importa Glielo facciamo vedere un pezzettino, sì? Ma se ne dicono di no? Grazie Sì, glielo facciamo vedere Al tredicesimo minuto della tredicesima ora del tredicesimo giorno L'equipaggio dell'Apollo era pronto a partire per la missione numero 13 Ragazzi, facendo le corna fin qua tutto bene Meclamara? Meclamara? Abbiamo appena visto le sue analisi Lei è al cimurro Non è possibile Scenda subito e non faccia storie E noi cosa facciamo? Non ci vorrete lasciare qui da soli, eh? Tutto sotto controllo, Apollo Stanno arrivando i rimpiazzi Rimpiazzi? Salve ragazzi È la prima volta che partecipa a una missione spaziale, no? Sarà mica pericoloso Per un bello lo perdevo Avete mica un carica pacemaker qua? No Eccolo No Quanto ci vuole per arrivare a Hollywood sotto poso? È incredibile quanto li fanno tutto di questi modi deludati, no? E qui, Justo, un Apollo 13, mi sentite? Justo, Justo, abbiamo un problema, Justo! Justo! Abbiamo un problema, Justo! Amici, Apollo 13, questo è un film, sì, così che si fa Giavarnanda, ha visto? Apollo 13 non è successo niente Tenga il suo bastone con la civetta Tutte queste cose antiche come il mondo L'aglio e il peperoncino Ci si faccia degli spaghetti, Giavarnanda Dovrebbe ringraziarli, mister Bobby Non si scherza con queste cose Rideva così anche mio zio Giavarnanda Stupor Lo scettico di famiglia E che cosa gli successe? Andò fallito con la sua fabbrica di amuleti Sì, che tristezza, che tristezza Giavarnanda, non passi davanti Bene, amici